Analizziamo adesso il funzionamento del motore asincrono trifase a rotore bloccato, cioè con il rotore che non può ruotare. In queste condizioni nel circuito di rotore abbiamo che la resistenza, la componente resistiva R2 fratto S, essendo lo scorrimento a rotore bloccato uguale a 1, risulta essere uguale a R2. Quindi la componente resistiva assume il valore minimo, il minimo valore che può assumere nel funzionamento del motore. In queste condizioni ovviamente la corrente assorbita dal rotore risulta massima. Per il minimo valore di resistenza avremo in corrispondenza il massimo valore di corrente e la indichiamo questa corrente massima come I2CC, quindi la corrente assorbita dal rotore in condizioni di rotore bloccato. La corrente I2CC determina una corrente di reazione allo statore che indichiamo con I2'CC che sappiamo essere uguale alla I2CC diviso il rapporto di trasformazione al rotore bloccato K0 e questa ci fornisce la corrente di reazione statorica che essendo massimo il valore delle 2CC sarà anche essa il massimo valore che può assumere. Quindi siamo in condizioni di massima corrente statorica di reazione, quindi la corrente che complessivamente il motore assorbe dall'alimentazione la I1CC a rotore bloccato è data dalla somma, sappiamo, vettoriale della corrente di reazione con I2CC' più la corrente assorbita a vuoto. Corrente assorbita a vuoto che in queste condizioni risulta essere molto inferiore alla corrente di reazione statorica che ha il suo valore massimo e quindi per semplicità di analisi la trascuriamo commettendo un errore non importante ma che ci consente di ottenere un'analisi più semplice e comunque abbastanza completa e affidabile. In queste condizioni quindi noi possiamo semplificare l'espressione della I1CC ritenendola uguale alla corrente di reazione statorica I2'CC. La conseguenza sul circuito equivalente di questa semplificazione che facciamo è che il ramo con i componenti trasversali C0 e B0 risulta non essere attraversato da alcuna corrente, il 0 abbiamo approssimato a 0 e quindi noi possiamo tranquillamente trascurare il ramo trasversale e quindi semplificare il circuito equivalente del motore eliminando il ramo trasversale. Quindi facciamo questa semplificazione nel circuito in modo tale da vedere come il circuito è modificato in una forma più semplice. proseguiamo nell'analisi e vediamo ancora le relazioni fra le varie grandezze. Abbiamo nella parte centrale, sappiamo che il circuito equivalente presenta un trasformatore ideale, quindi ricordiamo le conseguenze, le caratteristiche di funzionamento del trasformatore ideale. Abbiamo intanto la relazione che lega le due tensioni indotte allo statore e al rottore e sappiamo che il loro rapporto per definizione rappresenta il rapporto di trasformazione al rottore bloccato K0. Altra relazione che sappiamo è che la somma della potenza entrante al primario del trasformatore, quindi la E1 per I2'cc deve essere uguale alla potenza erogata alla E02 per I2cc e quindi da questa uguaglianza delle potenze entranti uscenti dal trasformatore, ricaviamo che la I2'cc sarà data dal rapporto fra E02 e E1 moltiplicato per I2cc, dove il rapporto E02 fratto E1 non è altro che l'inverso di K0 e quindi la I2'cc risulta essere uguale a I2 diviso K0 che è l'espressione che ci consente di riportare come sappiamo la corrente rotorica allo statore. Adesso se noi pensiamo quindi al circuito equivalente e pensiamo al comportamento che viene visto del circuito equivalente dal trasformatore ideale verso il rottore abbiamo che questo presenta una tensione ai capi pari a E1 e assorbe una corrente pari alla I2'cc, quindi tutto il circuito equivalente, quello all'interno del tratteggio risulta essere rappresentabile con un'unica impedenza che ha un comportamento analogo al circuito equivalente completo, quindi un'impedenza che qua vado a rappresentare come equivalente della parte rimanente del circuito e questa impedenza sarà quella che quando presenta i suoi capi la tensione indotta e con una assorbe la corrente I2'cc. In questo modo noi possiamo ricavare appunto l'impedenza riportata allo statore del circuito rotorico, quindi la Z2' che stiamo cercando sarà data nella nostra definizione dal rapporto fra la tensione E1 in ingresso e la corrente assorbita I1cc, che sarebbe anche la nostra I2'cc, continuiamo a indicarla come I2'cc, anche se è uguale alla I1cc. Quindi se adesso sostituiamo le relazioni che abbiamo visto del trasformatore ideale, quindi al numeratore sostituiamo l'espressione di E1, che risulta essere uguale a K0 per E0,2, la sostituiamo al numeratore, abbiamo quindi E0,2 per K0 e a denominatore sostituiamo il valore della I2', quindi abbiamo sostituito la E1 nella prima parte, adesso sostituiamo al denominatore l'espressione di I2'cc con quella che abbiamo trovato considerando il trasformatore ideale, quindi il rapporto I2cc fratto K0, la sostituiamo appunto qui a denominatore, e l'espressione di Z2' risulta essere pertanto a denominatore I2cc fratto K0. K0 al denominatore può essere portato al numeratore e quindi l'espressione diventa I2cc I2cc per K0 al quadrato e il rapporto è con 0,2 fratto I2cc non è altro ovviamente che l'impedenza del rotore e quindi abbiamo la Z2 per K0 al quadrato e questa è la relazione che mi consente di riportare l'impedenza rotorica Z2 allo statore e denominandola Z2' possiamo fare questo riporto allo statore semplicemente moltiplicando per K0 al quadrato l'impedenza del rotore, quindi questa è l'impedenza rottorica riportata allo statore. Continuiamo. nell'analisi del circuito dopo aver messo in evidenza questa relazione fondamentale quindi possiamo procedere nell'analisi, semplifichiamo il circuito equivalente riportando quindi l'impedenza del rotore allo statore, quindi ci rimangono i componenti statorici R1 e X1D e poi riportiamo la Z2' e scomponiamola nelle sue componenti resistiva e induttiva quindi possiamo scrivere la Z2' come data dalla somma della sua componente resistiva che chiamiamo R2' più la componente reattiva JX2D' dove ovviamente la R2' risulta essere uguale a R2 per K0 quadro quindi con il coefficiente del riporto allo statore e quindi possiamo continuare il circuito equivalente rappresentando le due componenti riportate dal rotore in serie a quelle statoriche il circuito equivalente quindi del rotore bloccato riportato allo statore è questo se adesso andiamo a raccogliere le componenti resistive e reattive possiamo ulteriormente semplificare il circuito quindi avremo una componente resistiva data dalla somma delle due componenti riportate prima una componente reattiva data dalla somma delle due componenti reattive quindi il circuito equivalente può semplicemente ridursi a questo la corrente assorbita è la I1cc continuiamo a chiamarla così e poi possiamo scrivere l'espressione delle due componenti R1cc è uguale alla R1 più la R2K0 quadro una resistenza fotorica riportata allo statore e la X1cc sarà la X1d reattanza di dispersione strattorica più la reattanza di dispersione rottorica riportata al primario quindi moltiplicata per K0 al quadrato queste sono le due componenti evidenziamole dell'impedenza equivalente del motore in condizioni di rotore bloccato in questo circuito adesso possiamo quindi determinare l'espressione della corrente con la legge di Ohm generalizzata la I1cc assorbita sarà ovviamente uguale al rapporto fra la tensione di alimentazione di fase del circuito monofase diviso l'impedenza R1cc più Jx1cc la caduta di tensione sui due componenti longitudinali le indichiamo come Vr1cc quella sulla resistenza equivalente e la Vx1cc quella sulla reattanza equivalente al rotore bloccato queste due tensioni ovviamente le possiamo ricavare dalla conoscenza della I1cc quindi la Vr1cc sarà data dal prodotto di R1cc per la I1cc quindi risulterà essere una tensione in fase con la corrente I1cc è ovvio che sia essendo una componente resistiva quindi la Vr1 in fase con la I1 la Vr1cc e la Vx1cc la Vx1cc sarà data ovviamente dal prodotto di Jx1cc per la corrente I1cc quindi nel prodotto vettoriale avendo il prodotto per il coefficiente immaginario puro J avremo che la tensione sarà in anticipo di 90 gradi rispetto alla corrente I1cc queste considerazioni di fase ci serviranno ovviamente nel tracciare il diagramma vettoriale del motore in funzionamento a rotore bloccato quindi evidenziamo queste relazioni a questo punto possiamo procedere e scrivere per completezza l'ultima relazione l'equazione di Kirchhoff alla maglia in modo da vedere che la tensione di alimentazione monofase la Vx1f non è altro che la somma vettoriale della Vr1cc con la Vx1cc quelle che abbiamo appena scritto e trovato quindi anche questa relazione ci servirà nel tracciare il diagramma vettoriale in modo corretto mettiamo in evidenza questa relazione fra le tensioni lungo la maglia disegniamo il circuito il diagramma vettoriale a questo punto tracciamo gli assi del piano di Gauss quindi l'asse dei reali e l'asse degli immaginari tracciamo il vettore rappresentante la tensione di alimentazione v1f supponiamo quindi che il vettore sia ad esempio questo quindi dall'origine vettore v1f che rappresenta la tensione di alimentazione tracciamo anche il vettore della Ix1cc che avremo ricavato dalle precedenti relazioni ovviamente la Ix1cc risulta in ritardo sulla tensione di alimentazione in quanto il circuito di tipo RL quindi ohmico induttivo l'angolo di sfasamento fra la tensione di alimentazione e la corrente assorbita al rotore bloccato lo chiamiamo phi cc e ovviamente sarà uguale all'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente che abbiamo determinato la R1cc più Jx1cc quindi sarà dato dall'arco tangente della parte immaginaria x1cc diviso la R1cc e questo rappresenta l'angolo di fase in condizioni di rotore bloccato l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente a rotore bloccato adesso rappresentiamo le altre tensioni abbiamo la V1r che è in fase con la I1cc quindi sarà lungo questa direttrice la stessa direzione della I1cc mentre la Vx1cc è in anticipo di 90 gradi sulla I1cc quindi formerà sarà lungo questa direttrice che forma un angolo di 90 gradi con la direzione della I1cc i due vettori Vx1cc e Vr1cc devono essere tali che la loro somma vettoriale sia uguale alla V1f per l'equazione di Kirchhoff che abbiamo scritto prima quindi i due vettori graficamente devono avere questa rappresentazione in modo tale che la loro somma sia uguale al vettore rappresentativo della tensione di alimentazione Vx1f e questo è il comportamento del motore a rotore bloccato